Ritorno allo stadio Cosimo Puttilli, rettilineo finale, l'interrogativo è d'obbligo ma intanto c'è un piccolo passo in avanti, quello riguardante la consegna della struttura al comune di Barletta da parte di Sport e Salute che segue di alcune settimane il verbale di consegna redatto dalla CMS di Battipaglia, impresa responsabile dei lavori nella struttura, chiusa al pubblico da ormai sette anni, superata la fase dei collaudi ora la palla o la patata bollente a seconda dei punti di vista passerà al comune al momento commissariato, toccherà a Palazzo di Città dare gli input necessari per raccogliere i pareri tecnici utili per il rilascio dell'agibilità della struttura, l'appuntamento di sabato 2 aprile quando al Puttilli arriverà il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli sa di incontro più formale che dall'immediata efficacia, Barletta invece dovrà confrontarsi con una campagna elettorale in corso e con la vacazio legis sulla poltrona di sindaco, l'assenza di una politica che possa sollecitare i pareri con un'amministrazione commissariata e un ulteriore potenziale freno, dovranno essere infatti il commissario prefettizio e il tecnico responsabile dell'iter a interfacciarsi con settore lavori pubblici, prefettura, vigili del fuoco e commissione di pubblico spettacolo. La certezza è che al 3 maggio 2015, settimo anniversario dalla chiusura del Puttilli, coincidente con la partita di calcio tra Barletta e Foggia finita a 0-1, lo stadio non sarà certo stato inaugurato. Sono cambiate le amministrazioni, ma il Puttilli no, è costato 5 milioni di euro ed è rimasto lì come un memoriale degli errori che la lentocrazia e le mancate competenze possono comportare. L'auspicio di tutti è di averlo a disposizione per eventi ufficiali entro la fine del 2022. anno in cui è in corso il centenario dalla fondazione del Barletta, squadra che ha vinto il suo girone nel campionato di eccellenza nonostante sia costretta a giocare perennemente in trasferta.